E la recensione del libro Miriam e Joseph di Paolo Ballardini. Grazie all'autore e grazie a Lisa e Giovanni per avermi donato questo libro che è super bellissimo. Un libro che mi ha fatto anche sognare, ho sognato veramente quello che leggevo, sogni belli ovviamente. E vi voglio dire, conosciamo tutti Gesù. Eppure chi è che conosce la vita dei suoi genitori? In pochi. E qui veramente è raccontata in maniera eccelsa. È un romanzo di narrativa storica. Nativa storica perché? Perché l'autore si è recato sui posti dove vivevano proprio e si è accalato nei panni dei protagonisti, vivendo, mangiando, dormendo dove dormivano loro e documentandosi tantissimo. Questo ha fatto sì che sia un libro bello, bello, bello. Quindi io vi auguro buona lettura e ricordatevi che è in vendita esclusivamente per scelta dell'autore solo su Amazon. A presto! Ciao!